Una storia così lunga ci porta oggi Imoida e oggi un po' mica da parlare né di gomerci né di spopolazioni dell'interno, ma di un legume che è stato salvato qui che di proprio Ubaesi, di acceo da Imoida, ne ma parlare con quelli che l'hanno salvato, che oggi provano a svilupparlo. E tutto si basse al nord, giusto da sotto Ubaesi, Jean-Paul Le Baldi e i suoi nipoti sono bene affacendati a tirare i solchi da ponaggi i dupati. E sono un po' di gomerci, perché noi abbiamo già presso a i gomerci, e ci sono i gomerci, mi sono spettato a un po' di gomerci, quindi un po' mi ha spettato a me vitto, e quindi sono spettato a i gomerci, e i gomerci per il gomerci, e i gomerci per il gomerci? Ma cosa dicono, è un po' di gomerci? C'è che quando facciamo il caccio, a le gomerci di gomerci, a prendere i gomerci, a tutti i gomerci, a luna, a luna, a tutti i gomerci, che rinovemo l'antagibola di Alunavitio. C'est-à-dire che avevamo dopaglie. E se dopaglie qui hanno erano, queste erano, a parte di Gwindejao Osto e di Santamaria, soprattutto, teniamo un gato di un grande ruolo di Lidurgico, a parte di Santamaria e Gwindejao Osto, fiamo le burcadje. Se burcadje hanno vache bolluce di 1520 gentimi, che sarebbero ribicati, più pesanti. Moida è un paese di traigione, di sull'igumi a Gwindejao, come si vanno a Gwindejao o un'igomma che era importantissimo per il paese? Era importantissimo, perché avevamo parte di Baisani di Moida, a un'esercizio come le burro di Gwinde, la fasi, le muri, un terreno di bedrenato, l'acqua, un'edare che bovella è magnifica. E quindi i moidinchi facevano, mica tanto la cibolla secca, facevano soprattutto le gabate di cibolle. Le gabate di cibolle erano cibolle a rigurta al mese di novembre, fatte in cibolle di 200 cibollucce. E ne vendivano in tutta l'Arta Gorsica, partivano da regione Osto e Alce, ovvio morbo. Non dirò mica dopo un trauraglio, che li facevano bene, avevano rivenuto, perché erano tutti i tesori di rade, ma direi perché, perché, a tradizione, è moidinca. Ma per ottenere il sito Pagli, c'è tutto un trauraglio davanti ai cibolle, forse a parte la più minuziosa di agoltura di acciota. La cibolla che vuoi ridere qui, è una cibolla che è stata ricurta davanti a cibolla, al mese di luglio, a Vecchia Luna. Obbligatoriamente a Vecchia Luna, perché così è una cibolla che non è una amica macionale. Questa cibolla è pulita, ma c'è un lavoro enorme a pulire, c'è la spulalla, dopo c'è la lampalla dell'acqua, e tutte le rade che fanno il fondo dell'acqua, come questa qui, sono buone. Quelle che rigollano, sono i temi, perché non ha mai un altro cibolla. E a Vigni, tutto il suo travaglio offre un famoso cibo da moidinca, così sfarenti dall'altro. La particolarità di questa cibolla è già assai insuccherata, dolce, quando si può sbucciare, un pizzico di calocci, e l'uso era che i pastori moidinchi, quando li vertiano in montagna, hanno sempre usato una cibolla da musetta, perché è caccia asida. Ma sull'igomma, oggi coltivato con tante bassioni, era quasi paspariscia, allora poi continua a approfittare di qualità di acceo da moidinca, che è bursuta a salvare. La acceo da moidinca è stata come tutta la varietà dei nostri paesi, che infatti si non dava male, per via che la gente generava poco, invece biciano e spariscono. Quando perdiamo una cultura di vita, perdiamo noi la varietà che non coltiviamo. e dunque c'è stato il sogno, che c'è un po' lo ha, di circa salvare, almeno salvare, e poi vanno in una promozione, in maniera che l'Asia coltivata torna. Contro l'usibò, qui, e poi c'è un giorno, ancora non è strato, ma che l'Asia è salvata. Sai che si può fare assolutamente giorni nuovi anni, dunque, durante 0-7 anni, non abbiamo vattuto a strumenti, che è di buono e agiole, di va a su mento, non abbiamo manco mangiato, o quasi mica, i primi anni. E poi qua, siamo sboccati, con tutto, c'è una quantità di su mento che ci permette, si considera che l'Asia è salvata. Salva che è un simbolo di appena patrimonio obese, di noi o Ascioda? Il patrimonio, è ciò che la generazione di eleve di Nanzo già non è legato, dunque, noi pensiamo che la questione patrimoniale non si può mica limitare né la lingua, né il canto, né la saffa di Brimura, che sono veramente importantissimi, anche un buon tello nella nostra vita, ma c'è di noi ciò che è tutta, il nuovo piatto, quando tu ti metti il tavolino per mangiare, dunque l'alimentazione è di noi un fatto di cultura, è di un travaglio di antropologia culturale, se la si può dire, capisci? Ci si parla, noi non vogliamo esempio di noi, non siamo mica consigli a dare né a uno né all'altro, noi abbiamo bisogno di essere felici, dove non ci troviamo, e dunque per la nostra felicità ci è basto utile di trovare di noi nella nostra orte di Zappale. Emoida si può riare in banan tasso traizioni urtulana da stala sempre di più giovani in paesi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.